C'erano una volta gli hotel annuali, quelli che non chiudevano subito dopo l'estate, ma che rimanevano operativi anche dopo settembre grazie al via vai di agenti di commercio e di altri lavoratori in trasferta. Poi è arrivato il covid a cambiare le carte in tavola. Tra l'economia in affanno e il diffondersi dello smart working, con la fine della bella stagione le strutture alberghiere si sono ritrovate improvvisamente senza clienti. Il Natale, allo stato attuale, è difficile immaginare che con le festività ci sarà il solito ragguardevole flusso di turisti. Ed è anche per questo che a Fano diversi hotel stanno per chiudere i battenti, aspettando la prossima estate. Quest'anno, come stagione, non bisogna dire che è andata bene, come ha detto qualcuno, né male, malissimo. Perché chi ha fatto la stagione lunga, che giugno-luglio è andata male, veramente male. Abbiamo avuto un agosto discreto, naturalmente quello che è importante è che in questo momento invece le 15 strutture che sono aperte sono tutte alla canna del gas, perché non c'è commerciale, non c'è neanche, non solo il commerciale, ma anche quel flusso di persone che sono di passaggio sulla nostra regione non c'è perché lavorano tutti da casa. Zero clienti, ma le spese sono sempre tante. Per questo gli albergatori invocano l'aiuto della regione. In questo momento cosa dobbiamo dire? Che la regione Marche ci dia un aiuto, un aiuto veramente importante, perché in questo momento siamo tutti alla canna del gas, perché le bollette stanno arrivando, le tasse, come avete visto, bisogna pagarle e allora bisogna vedere anche qualcosa che la regione faccia. Come ho chiesto e ho parlato con qualcuno di dare il contributo che è andato l'altra volta in base alle stelle e naturalmente anche in base alle strutture che sono già aperte, che naturalmente alla fine di questo mese chiuderanno. L'emergenza sanitaria è dunque la causa principale di questo momento di stasi, ma paradossalmente è la stessa pandemia a fornire una mezza soluzione, perché in tutta la provincia di Pesaro Urbino verranno selezionati due Covid Hotel, vale a dire due strutture adeguatamente attrezzate che possano ospitare persone positive o semplicemente in quarantena. Nella nostra provincia solo due, solo due le strutture che hanno chiesto. Vedremo chi verrà scelta e naturalmente chi aderirà a questa iniziativa.